Inaugurata la mostra Voce di Libertà che prende in esame le storie degli immigrati italo-americani che combatterono tra le truppe statunitensi durante la seconda guerra mondiale. La rassegna resterà aperta fino al 22 aprile. Il 2022 promette di essere l'anno del rilancio. La rassegna Certaldo Arte ne è la prova. Tre mostre in programma e la voglia di dare un'immagine nuova a Palazzo Pretorio. Trasferta per il Consiglio regionale a Bibbiena, dove si sono svolte le commemorazioni per le stragi di Partina e del Moscaio. Il presidente Mazzeo ha voluto regalare alle scuole un libro sugli eccidi compiuti in Toscana dal nazifascismo. Storie di resistenza, forse poco conosciute, ma centrali nell'aprire una strada alla Repubblica Italiana. Le hanno messe insieme Matteo Preterelli e Francesco Fusi, che hanno dato il là, in qualità di curatori, alla mostra fotografica Voce di Libertà, dove si raccontano le geste degli immigrati italo-americani che combatterono nell'esercito a stelle e strisce. Evento che resterà aperto fino al 22 aprile, nello spazio espositivo del Consiglio regionale. Quando mi presentarono l'idea, ha affermato Antonio Mazzeo, presidente dell'Assemblea Toscana, ne restai molto colpito, tanto che ho spinto perché la mostra si potesse allestire il prima possibile. Ma mai mi sarei immaginato di inaugurare questa mostra che ci racconta i tempi di guerra in Italia mentre si combatte la guerra in Ucraina, che sta devastando un paese e la sua popolazione. La raccolta del materiale è andata avanti per un decennio, come ha raccontato Preterelli. È una pagina di storia poco conosciuta che mi ha colpito tanto. Qualche mese fa, quando vennero a raccontarmi, a presentare questa mostra, fui così colpito che dissi facciamola subito. Ma mai mi sarei immaginato di vedere oggi qui questa mostra e in contemporanea vedere le terribili immagini che arrivano dall'Ucraina. I genocidi, la violenza, la guerra che sta devastando una comunità e un popolo, quello ucraino. Questa mostra è un modo per dire grazie, grazie ai tanti uomini, ai tanti ragazzi che vennero a difendere la libertà della nostra terra. Erano figli di emigrati, soprattutto emigrati negli Stati Uniti o in Brasile e tanti di loro solo dopo l'armistizio potrebbero conoscere la loro famiglia, i loro avi. Credo che ricordarli oggi qui ho un modo per dire grazie, ma anche per dire una cosa importante, che quello che è accaduto può accadere di nuovo e non bisogna mai voltarsi dall'altra parte, ma bisogna lavorare tutti insieme, ognuno per quello che può, perché in Ucraina torni la pace e scene come quelle che stiamo vedendo terminano velocemente. Originariamente gli italiani all'estero avrebbero un sentimento quantomeno filofascista, se non da un punto di vista ideologico, da un punto di vista più prettamente sentimentale, perché spesso bistrattati nelle comunità ospiti vedevano in Mussolini una sorta di redentore dell'italianità. Però con la scoppia della guerra gli italiani all'estero si trovarono spesso nemici dell'Italia e quindi furono purtroppo etichettati come potenziali quinte colonne. Ecco, da quel momento in poi scattò un sentimento di rivalza e si volle dimostrare il proprio filo americanismo in primo luogo, ma patriottismo a livello generale a sostegno dei paesi ospiti. Sono ormai quasi dieci anni che facciamo ricerca in archivi, sulla stampa e quant'altro, ma soprattutto questo è un lavoro che si basa su una forte empatia con veterani che abbiamo incontrati, ormai stanno scomparendo, ma ne abbiamo incontrati alcuni e alcuni anni fa, ma anche con figli e figlie di questi veterani. Quindi si è creato un vero e proprio legame, una sorta di network, perché i discendenti sono molto desiderosi di raccontare questa storia. All'evento è intervenuta anche Ragini Gupta, console americana a Firenze, che prendendo come spunto l'immagine in mostra, ha parlato di ciò che sta succedendo in Ucraina. Questa mostra ci ricorda del sacrificio, del contributo che ha fatto i soldati italo-americani, i partigiani italiani nei confronti del nazifascismo. Quello che sta succedendo in Ucraina, gli ucraini anche stanno dimostrando un coraggio simile. Ci ricorda molto. Questa mostra ci ricorda anche di quello che sta accadendo in Ucraina. I vuoti nel calendario sono ridotti al minimo. Certaldo Arte 2022 promette di dare un colpo di spugna agli anni della pandemia e a tutto quello che hanno rappresentato. L'obiettivo è quello di offrire un punto di vista nuovo rispetto all'offerta artistica ospitata a Palazzo Pretorio, scommettendo ancora una volta sull'arte contemporanea. Sono mostre da visitare. Prima Montanarini, poi la mostra di Talani, pittore che ha avuto modo di conoscere personalmente e ci racconta con occhi attenti alla Toscana di oggi. E infine quella di Claudio Cionini, un giovane che avrà grandi prospettive, affermato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Al suo fianco Francesca Parri, la curatrice della Kermesse. Palazzo Pretorio è un contenitore prezioso, capace di esaltare meravigliosamente le opere che vi vengono esposte. Un onore poter allestire delle mostre in un luogo così evocativo. Certaldo Arte 2022 rappresenta una rassegna d'arte contemporanea di grande valore artistico. L'iniziativa ha già preso il via con la mostra Luigi Montanarini, la pittura come vita, opere dal 1925 al 1990. È bello davvero poter ospitare questo momento in cui si racconta come si riesce a tenere insieme la storia, la bellezza dei nostri territori. Il Palazzo Pretorio a Certaldo Alto, insieme alla bellezza di tutto il borgo, ospiterà collezioni di arte contemporanea. È un mix che rende bella e grande la Toscana, con i piedi ben radicati nella sua storia, nella sua bellezza, nei suoi valori, ma anche con la capacità di guardare al futuro. Sono davvero mostre da visitare. La mostra di Montanarini, che partirà sabato, poi quella di Talani, che ho avuto modo anche di conoscere personalmente, che racconta con occhio attento la Toscana di oggi. E poi un giovane, un ragazzo che avrà grandi prospettive. Ricordatevi questo cognome, Cionini. Credo che queste mostre rappresentano davvero bene quella che è la nostra idea, l'idea di partire dalla bellezza dei nostri territori e grazie all'arte, alla cultura, attirare ancora di più visitatori e portare la Toscana verso il futuro. Quindi grazie al sindaco di Certaldo, grazie all'amministrazione comunale, grazie ai curatori, perché davvero Certaldo ancora una volta si dimostra città della cultura. Saranno allestite tre mostre in Palazzo Pretorio per la rassegna Certaldo Arte 22. La prima sarà inaugurata sabato prossimo, 9 aprile, e sarà dedicata a Luigi Montanarini, grande artista a livello internazionale, artista fiorentino di nascita, romano d'adozione. Un legame fortissimo con Certaldo, quello di Montanarini, perché Montanarini partecipò a un concorso organizzato dal comune di Certaldo con omaggio a Boccaccio. Nel 66 furono scelti due suoi disegni ispirati alla figura di Nastagio degli Onesti del Decamerone. Questi due disegni saranno esposti nella mostra, oltre a tutto il carteggio tra il comune di Certaldo, appunto, e Montanarini, che è valso veramente la pena di esporre, perché strattasi di lettere scritte con una calligrafia veramente elegante che ad oggi non si vede più. La mostra successiva sarà inaugurata invece a giugno e sarà dell'artista Giampaolo Talani di San Vincenzo, scomparso nel 2018. Conoscitissimo Talani qua a Firenze, abbiamo l'affresco alla stazione di Santa Maria Novella a Freschi, datato 2006. Anima sola, viaggio a finestre è invece il titolo dell'esposizione dedicata alle opere di Giampaolo Talani, pittore e scultore di origine livornesi, in programma dal 25 giugno al 22 settembre. La terza esposizione si intitola Immaginare la realtà, prospettive, luci, atmosfere, realizzata in collaborazione con la Galleria d'Arte Nozzoli e dedicata alle opere di Claudio Cionini. L'evento è in calendario dal 1 ottobre al 15 gennaio 2023. Le sale dell'edificio, simbolo del nostro territorio, si sono dimostrate cornice impeccabile, ha evidenziato Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo, valore aggiunto direi per i percorsi espositivi ospitati nel corso degli anni, da qui la volontà di creare un cartellone unico da proporre a turisti e visitatori. Da sempre le nostre sperimentazioni di unione fra il Palazzo Pretorio, che è un palazzo medievale con degli affreschi splendidi, che ha sempre ormai da anni valorizzato l'arte contemporanea. Noi abbiamo promosso ormai da un po' di tempo questi percorsi artistici con queste mostre temporanee. Il Palazzo Pretorio ha delle sale bellissime anche con esposizioni permanenti, con museo permanente, ma ha tutto il primo piano a disposizione per queste mostre temporanee. Ed è sempre stata la sua forza quella di essere un polo espositivo di arte contemporanea a livello toscano, che ospita continuamente mostre di carattere importante e il nostro tentativo è sempre stato quello di allargare l'orizzonte, valorizzare gli artisti locali da una parte e allo stesso tempo portare artisti di livello nazionale e internazionale. Palazzo Pretorio è a disposizione dell'arte ed è a disposizione della qualità artistica. Il percorso di quest'anno, realizzato con l'apporto di Exponent e con la curatrice Francesca Parri, è sicuramente un onore e un orgoglio. Si rivolge innanzitutto all'arte toscana, alla nostra regione e cerca anche di portare quella che è la produzione artistica dei toscani del passato e del futuro, a livello per farli ulteriormente conoscere, ma soprattutto grazie a loro e alla loro internazionalità far conoscere il nostro territorio, Certaldo, Palazzo Pretorio. Un libro per non dimenticare, un libro per evitare di ripetere gli stessi errori. In occasione dei 78 anni delle stragi di Partina del Moscaio, nella Retino, il Consiglio regionale ha donato alle scuole medie di Bibbiena il volume Partigiani della Memoria, le stragi e le violenze nazifasciste in Toscana. Presente le commemorazioni il Presidente dell'Assemblea regionale Antonio Mazzeo e Filippo Vagnoli, Sindaco di Bibbiena. Quello che sta avvenendo in Ucraina in questi giorni ci dice proprio questo, per avere memoria di quello che è stato, perché quello che è accaduto non accada mai più. Ai ragazzi voglio mandare un unico grande messaggio, non siate mai indifferenti, non voltatevi mai dall'altra parte, state sempre dalla parte giusta della storia, è quella della difesa dei diritti, della libertà, dell'uguaglianza. Non è semplice in questo tempo e penso che il lavoro che stiamo facendo, e quindi ringrazio il Sindaco Filippo Vagnoli, lo ringrazio davvero per aver voluto oggi questa giornata nelle scuole, perché il nostro compito è essere amplificatori della memoria, specialmente nel tempo in cui purtroppo stanno venendo a mancare i pochi superstiti di quelle terribili strade, spetta a noi, spetta alle istituzioni, amplificare la memoria. E oggi siamo a Bibbiena per questo. Un momento importante che tutti gli anni vogliamo commemorare e ricordare, che quest'anno ha un valore ancora più importante, alla luce anche dei triste fatti che stanno coinvolgendo l'Europa nuovamente dopo tanti anni di pace. Quindi è fondamentale ricordare ai nostri ragazzi che queste straci ci sono state anche nel nostro territorio, in particolare il 13 aprile, ormai di tanti anni fa, più di 70 anni fa, a parte nel Moscaio, furono coinvolte queste nostre due comunità in questi tristi straci, questi tristi momenti. È importante raccontarlo a loro ed oggi vogliamo farlo grazie all'aiuto del nostro illustre prefetto, la dottoressa De Luca, che ringrazio per essere venuta qui da noi ed è qui insieme a me, e del dottor Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, che appunto sarà anche lui con noi per regalare questo libro di testo, che poi lui racconterà, che è un libro di testo della regione toscana, che ricorda, riporta proprio tutte le varie stragi, tristi stragi che ci sono state alla fine della Seconda Guerra Mondiale nel nostro territorio toscano e anche purtroppo qui nel territorio bibbenese.